Il mio omo ideale deve essere alto, simpatico, curato, profumato. Sono curioso di sapere qualcosa di più su Talita. Io sono Talita, sono brasiliana di Porto Alegre e faccio la foto moderna. Sono una ragazza allegra e comunicativa, ma sono veramente poco paziente. Sono una persona felice e poi sono una persona libera. Mi piace fare shopping, mi piace uscire a cena, mangiare bene. Mangiare è secondo me la cosa più bella del mondo. Posso sembrare una ragazza dura e molto forte. Ma c'è ancora in me una bimba che guarda i film romantici e suoni all'amore. Ai ragazzi piaccio? Perché sì, sono carina. Poi sono anche molto simpatica. Simpatica e aperta. La prima cosa che guarda in un uomo è l'educazione, ma anche la bellezza. Il mio omo ideale deve essere alto, simpatico, curato, profumato. Poi mi piacciono gli uomini con la mente aperta, assolutamente. Che fanno ciò che vogliono fare senza pregiudizi, senza pensare troppo a cose stanno pensando gli altri, così come sono fatta io. Quando mi piace un ragazzo è io li faccio capire con uno sguardo. L'amore è qualcosa di difficile da trovare ma quando lo trovi ne vale la pena. Quando mi innamoro mi piace essere corteggiata, poi vizzata, però lo faccio anch'io. Il sesso per me è importante, però non è tutto. Non ho ancora trovato il mio match perfetto perché forse sono un po' esigente. Il mio match perfetto è una persona che mi rispetta, con cui mi sento bene, protetta e amata. E certo che lo devo amare anch'io. Se sono capace di trovare il mio match perfetto non lo so, però se c'è non me lo lascerò scappare.